...di fare delle domande, man mano che magari i senatori arrivano e che sono anche collegati e eventuali repliche. Sono presenti per la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche Barbara Mangio Cavalli, Presidente, e Andrea Varon, Consulente Esterno. Buongiorno Barbara, benvenuto. Per l'Inps, Rocco Lauria, Direttore Centrale di Inclusione e Invalidità Civile, e Raffaele Migliorini, Coordinatore Generale Medico Legale. Buongiorno, benvenuto. Per il Consiglio Nazionale dei Giovani, Francesco Marchionni, Consigliere di Presidenza. Buongiorno. Per l'Alleanza delle Cooperative Italiane, Marco Olivieri, Vice Presidente, Imprese Sociali, con Delega ai Disabili, Marco Bollani, componente Area Disabilità Conf Cooperative Feder Solidarietà, e Marco Zanisi, Presidente Serena, Società Cooperativa Sociale, Lega Cop Sociali. Buongiorno, benvenuto. Per l'Osservatorio Permanente sulle Disabilità, Francesco Comellini, componente del Comitato Scientifico. Buongiorno. Per la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, Giovanni Beretta, Presidente, Andrea Bernetti, Vice Presidente. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Per la Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti, Fanofi, Piero Ferrante, Presidente, Giuseppe Mazzotta, Consulente Legale. Buongiorno, buongiorno. Per l'Organizzazione Sanitaria Meridionale e Assistenza in Abili, Maria Luisa Paciulli, Presidente. Non c'è. Bene, arriverà. Allora, è in arrivo. A questo punto il testo l'avete a disposizione. Io comincerei da Barbara Mangiacavalli. Prego. Grazie, signor Presidente. Onorevoli senatori, buongiorno. Grazie per questa opportunità. La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Fisioterapisti è un ente sussidiaro dello Stato e tra le sue attribuzioni promulga anche il Codice Odontologico delle Professioni Fisioterapisti. Faccio questo riferimento perché nel Codice Odontologico del 2019, che è la versione tuttora vigente, che è stata approvata in Consiglio Nazionale, tra le altre, come dire, prescrizioni deontologiche, abbiamo dato ampio spazio al tema della disabilità perché abbiamo messo alcuni elementi importanti, tra cui, ad esempio, ne cito un paio, l'infermiere promuove la prevenzione delle disabilità e interviene attivamente nei processi di riabilitazione, favorendo l'autonomia e l'inclusione sociale della persona assistita. L'infermiere si impegna nella ricerca e nella formazione in materia di disabilità al fine di migliorare la qualità dell'assistenza infermieristica prestata a questa specifica popolazione. L'infermiere si impegna attivamente nella promozione e la difesa dei diritti delle persone con disabilità, contribuendo a creare una società inclusiva e consapevole delle loro esigenze e dignità. Dirò tra pochissimi minuti perché ho preso come spunto questi elementi del nostro Codice Odontologico. Durante il nostro lavoro quotidiano, gli infermieri incontrano e assistono persone di ogni amministrazione sociale che possono avere disabilità cognitive, linguistiche, fisiche, visive, uditive, bambini e adulti. E siamo impegnati a fornire cure culturamente sensibili ai pazienti con disabilità. Ci premuriamo di assicurare, di promuovere le loro capacità, abilità e punti di forza per mantenere il loro attuale stato di salute e risolvere i loro bisogni sanitari. Siamo dentro l'ambito dell'assistenza personalizzata o individualizzata. Quindi è fondamentale che il sistema sanitario miglia a soddisfare le esigenze di questa popolazione diversificate. E come fornitori di assistenza sanitaria è necessario essere sempre più sensibili ai pazienti con sfide e disabilità legate alla salute. In questo contesto noi siamo in prima linea. Considerazioni sullo schema di decreto legislativo. La Federazione Nazionale intende esprimere una piena sintonia con lo schema di decreto legislativo che interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all'accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi sia di base legati anche alla valutazione ultidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L'obiettivo di assicurare riconoscimento alla condizione di disabilità per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili alle persone con disabilità, al pieno esercizio su base di uguaglianza con gli altri delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, è pienamente in linea con la mission della Federazione, con i valori che da sempre contraddistinguono la professione infermieristica. Il disegno normativo assolutamente condivisibile in considerazione del fatto che deve incentivare dignità e autonomia delle persone con disabilità, contribuendo a definire quel disegno di prevenzione della fragilità nella popolazione. È però necessario investire in un approccio che guardi a sistemi sociosanitari del tutto nuovi, in cui si ripensi anche a nuovi paradigmi delle professioni sanitarie in primi scuola infermieristica. In questo particolare momento storico infatti riteniamo che sia abbastanza primario e prioritario e necessario dare luogo a una fattiva e regolata collaborazione tra sistema sociale e sanitario attraverso l'azione coerente di una comunità di cura. Quello che noi percepiamo nel leggere il testo del decreto legislativo, così come ad esempio nel leggere il testo del decreto legislativo sugli anziani, ma anche ragionando sui tavoli ministeriali rispetto al decreto 77, è ancora uno scollamento tra la missione 5 del PNRR, coesione sociale, e la missione 6 salute. Quindi quello che ci interessava sottolineare in questo contesto è che l'attuazione della missione 5 del PNRR deve trovare un'integrazione con lo sviluppo della missione 6 del PNRR associata all'assistenza sanitaria territoriale, in particolare legata alla digitalizzazione dei percorsi di cura, perché impattano anche sulla componente oggetto di analisi di questo decreto legislativo, così come la possibilità di riflettere e rafforzare ad esempio l'identità delle case di comunità, con l'idea di rafforzare strategicamente l'attitudine a guardare i bisogni della comunità mettendo in atto pratiche di relazioni di incontro capaci di motivare e responsabilizzare i cittadini, a partire dai meno visibili, i meno inclusi. E vi sono diverse azioni che possono essere sviluppate sostenendo l'integrazione in diversi modelli di intervento. Ad esempio noi lo abbiamo già proposto in altre occasioni, mi sento di riproporlo qua, abbiamo proposto ai ministri competenti l'istituzione auspicabile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri di ogni Dipartimento per l'integrazione socio-sanitaria degli interventi a favore della persona, perché potrebbe coniugare questa frammentazione di percorsi dei professionisti, ma anche organizzativi. Ad esempio quello che personalmente mi preoccupa molto è la messa a terra di alcune indicazioni normative contenute nella missione 6, ma anche nella missione 5, e poi ne faccio accenno anche nella memoria che depositeremo, riguardanti punti unici d'accesso. Punto unico d'accesso è se deve essere un punto unico di accesso, sanitario, socio-sanitario e sociale. In realtà noi vediamo in alcuni provvedimenti normativi come vengono finanziati per alcuni aspetti una componente legata alle amministrazioni comunali dei punti unici d'accesso e per altri aspetti una componente sanitaria. C'è bisogno però di mantenere integrato la presa in carico della persona disabile. Perché quello che riteniamo di valore è la necessità di un lavoro multiprofessionale in equipe di una valutazione multidimensionale. In questo decreto legislativo si facenno alla valutazione multidimensionale che è appunto anche prevista all'interno delle case di comunità e quindi come federazione da sempre sosteniamo che per rendere più efficiente del servizio sanitario nazionale abbiamo veramente bisogno di valorizzare le professionalità che sono dentro la sanità e che vengono messe in condizioni di lavorare su percorsi concertati e su percorsi integrati. Con l'obiettivo di fornire ai cittadini quello di cui hanno veramente bisogno disegnando nuovi modelli organizzativi in un continuo tra i diversi momenti che vanno dalla prevenzione alla diagnosi alla terapia. La presa in carico della persona e dall'assistenza continua alla continuità tra ospedale e territorio deve essere un elemento che orienta le scelte politiche istituzionali. Nello schema del decreto legislativo riteniamo come federazione di sottolineare che la valutazione multidimensionale necessiterà della collaborazione oltre che della persona interessata, dei familiari, dei caregiver, anche della funzione infermieristica attraverso la partecipazione delle infermieri, famiglie e comunità così come avviene già per il decreto 77. Abbiamo bisogno di sperimentare modelli organizzativi che definiscano macroprocessi del livello territoriale e affidare agli organismi competenti, sanitari e sociali, la capacità e la necessità di lavorare su una gestione integrata del Governo della domanda, raccordo dell'offerta dei servizi sociali e sanitari, gestione e monitoraggio degli interventi sanitari e sociali. Quindi in particolare mi avvio la conclusione, integrare modelli già sperimentati di stratificazione dei bisogni sanitari e sociali del territorio per identificare i cittadini fragili in condizioni di rischio perché solo integrando la vulnerabilità sociale, reddito, rete familiare, abitazione, isolamento sociale e sanitaria, presenze patologie croniche, defici sensoriali, è possibile garantire una risposta appropriata in caso di bisogno o garantire più a lungo il funzionamento del sistema famiglia presso il proprio domicilio. Sviluppare maggiore proattività nella presa in carico con punti unici di accesso integrati dove unico non assume il significato di esclusivo ma di unitario e si supera la logica dello sportello ma intercetti i bisogni sociosanitari che si rivolgono ai diversi servizi. È necessario ragionare di percorsi fortemente integrati di presa in carico attraverso l'equipe multidisciplinare, è necessario ragionare di nuove politiche abitative per la presa in carico finalizzate al conseguimento dell'autonomia da parte delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e sanitaria, è necessario riflettere su interventi per l'invecchiamento attivo con la finalità di mantenere più a lungo possibile un livello di indipendenza delle persone anziane. Così come sviluppare modelli di suddivisione del distretto in micro aree, figure di prossimità, IFE, assistente sociale, che possono esprimere quelle competenze utili a tenere il raccordo di rete. Quindi per arrivare alla conclusione, per tutto quanto abbiamo espresso, poi ci sarebbero riflessioni da fare anche solo della COT nel tenere raccordato i diversi livelli di servizio, perché la COT non è esclusivamente sanitaria ma è un luogo elettivo di dialogo dei setting assistenziali dei professionisti per creare la continuità del percorso di cura e di assistenza. Quindi per tutto quanto abbiamo espresso riteniamo che l'approccio interprofessionale alle tematiche oggetto del dispositivo in esame, affinché non si torni verso una conformazione a silos, penalizzante rispetto alla volutazione multimensionale, debba, come dire, va nella direzione giusta ma debba essere magari ottimizzato e integrato anche con una riflessione con la missione 6. Per favorire una piena integrazione socio-sanitaria con la compartecipazione e la co-costruzione di tutte le professioni sanitarie e sociali oltre che dalle istituzioni. Quindi grazie per questa possibilità e per questo momento di confronto. Bene, grazie. Sì, in effetti ci sono parecchi punti in parallelo con il testo di cui non ricordo il numero sulla Deleganziani che stiamo proprio in questi giorni lavorando in commissione e sono molti punti di sovrapposizione e di collegamento. Questo della integrazione socio-sanitaria, dell'assistenza domiciliare è la sfida vera in entrambi questi settori. Bene, grazie. Rocco Lauria per l'Inpsi. Si sente? Grazie Presidente. Io e il mio collega ci dividiamo un po' i tempi che sono ristretti quindi sinteticamente. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale viene coinvolto in maniera da attore protagonista della riforma perché l'articolo 9 attribuisce la competenza esclusiva sulla valutazione di base. Abbiamo in mente il modello, quindi due step, valutazione di base e valutazione multidimensionale. Mentre in quella multidimensionale noi non siamo chiamati in maniera diretta, invece abbiamo un ruolo importantissimo sulla valutazione di base. Prima di fare qualche riflessione su questo, visto che abbiamo condiviso anche il percorso dentro il tavolo tecnico, vorrei sottolineare l'importanza epocale della riforma perché l'articolo 3 parte dalla definizione che ha dato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla persona con disabilità, recependone la definizione e facendo riferimento agli standard internazionali della classificazione delle malattie e del funzionamento, conosciuti con gli acronomi dell'ICD e ICF. Inoltre l'accertamento si arricchisce della valutazione di base, si arricchisce anche di un questionario, anche questo standardizzato a livello internazionale, che è il VUDAS. Quindi l'accertamento che dovrà fare la nuova Commissione, le unità valutative di base, si arricchisce e chiederà anche più tempo. Ora, noi condividiamo l'approccio che è contenuto nella riforma, siamo anche consapevoli dello sforzo che dovremo fare perché vi ricordo un po' i macro dati delle attività. Oggi comunque l'Istituto gestisce la piattaforma che riguarda l'accertamento dell'invalidità civile, quindi abbiamo più di 3.200.000 persone che soffruiscono di prestazioni, la spesa è intorno ai 20 miliardi, nel 2023 abbiamo avuto più di 600.000 nuove prestazioni. Le domande degli accertamenti sono state nel 2022 circa 2 milioni e mezzo e 2.750.000 nel 2023, quindi c'è anche un trend in aumento. Quindi l'impegno sarà determinante per noi, tant'è che l'articolo 9 prevede anche delle risorse che consideriamo adeguate, senza le quali non si potrebbero costituire le commissioni nella nuova forma. Il procedimento pensato, descritto nella riforma è semplice, noi lo condividiamo, arriva il certificato telematico e questa è un'importante innovazione che scatenerà immediatamente la chiamata a visita, mentre oggi il certificato telematico aspetta, tra virgolette, l'arrivo della domanda amministrativa. Quindi questa è una novità importante che semplifica e che ridurrà i tempi della chiamata a visita. Fino a sette giorni dalla data di visita il soggetto potrà depositare ulteriore documentazione, il procedimento deve concludersi entro 90 giorni e la norma dice espressamente che le prestazioni economiche decorrono dal mese successivo dal rarrivo del certificato. Quindi è immaginato in maniera molto semplice. Un altro aspetto che noi sottolineiamo è anche la visione di sostegno tecnologico che ci sta dietro e che riconosce all'istituto la necessità di garantire la interoperabilità delle banche date. Questo è un altro elemento. Vorrei sottolineare tra l'altro che nel capo 4 l'articolo 36 dispone chiaramente la possibilità per la commissione di accedere ai contenuti del fascicolo sanitario elettronico. Questo è molto importante perché soprattutto dopo la pandemia tutti noi la nostra storia sanitaria sarà dentro il fascicolo. La possibilità che avrà la commissione ovviamente su autorizzazione dell'interessato di accedere al fascicolo sanitario consentirà di velocizzare i tempi e di fare valutazioni più appropriate. Inoltre dovremo anche connettere i nostri sistemi con un'altra banca dati molto importante che è quella del Sius, cioè il sistema integrato dei servizi sociali. Quindi per gli aspetti più medico legali lascio la parola al collega ma noi siamo pronti per questa attività. Veramente abbiamo collaborato e pensiamo che i tempi sono anche adeguati per far sì che dal primo di gennaio del 2025 parta la sperimentazione. Ovviamente aspettiamo e daremo anche il nostro contributo appunto sei chiamati perché l'articolo 12 prevede un importantissimo decreto attuativo che sarà diciamo dove l'attore principale è il Ministero della Salute perché il decreto deve anche immaginare le nuove, il nuovo sistema tabellare relativo anche, non solo questo però uno dei punti determinanti è anche il nuovo, le nuove tabelle che come sapete sono ferme ad un decreto del 5 febbraio del 1992 che dovrà essere aggiornato. Prego Raffaello. Sì, allora sono estremamente sintetico. Ringrazio signor Presidente e signori senatori, quindi ringraziamo per questa occasione. Allora dal punto di vista diciamo tecnico medico legale, molto concretamente, molto sinteticamente posso dire che c'è una rivoluzione e che salta completamente un paradigma, quello del mero approccio della valutazione della capacità lavorativa di cui ha la legge 118-71. Quindi questo anche per chiaramente noi medici legali è un concetto estremamente sfidante perché è evidente che la valutazione di diversi profili di funzionamento del CF valutano quindi la disabilità indagando anche tra l'interazione tra dimensione personale e psicofisica dell'individuo e il contesto socio-spaziale, ambiente sociale, territori, servizi. Quindi la disabilità in realtà deve essere valutata come risultato di una combinazione di cause concomitanti, non della mera, diciamo fra virgolette, abbandonata dal concetto medico legale, meno mazione. Cioè è l'opposto in realtà. Quindi ripeto, ecco perché è un concetto sfidante anche per noi. Molto sinteticamente, ha già detto il direttore Lauria, il soggetto unico accertatore sarà l'Istituto Nazionale dell'Organizzazione Sociale. Quindi diciamo che ci sarà un abbandono di questo tradizionale dualismo che vederà le aziende sanitarie locali e l'Inps in questo primo accertamento. Naturalmente questo vale per la valutazione di base, non per il successivo step, ma per la valutazione multidimensionale. Come saranno formate queste commissioni? Altro elemento concreto. Saranno formate da due medici nominati dall'Istituto, di cui uno Presidente, che almeno abbia specializzazione di medicina legale o almeno tre anni in ambito assistenziale e previdenziale. Quindi una collega che dovrà essere di provata esperienza in quest'ambito e l'altro sicuramente dovrà essere un specialista medico legale o un specialista in materia equipallenti affini. Quindi questo amplia, diciamo, un po' anche per una nota carenza di specialisti che esiste sul territorio nazionale e quindi questo può essere un incentivo per poter anche accelerare i procedimenti di accertamento. Naturalmente sarà integrato anche da un medico di categoria, Ammi, Cioic, Enz e Anfas, a seconda chiaramente di quella della patologia, e poi di una figura professionale che appartiene alle aree psicologiche e sociali. Perché è indispensabile, obiettivamente, proprio perché poc'anzi ho detto che è una dimensione olistica in cui viene chiaramente affrontata la disabilità. Naturalmente ci sono dei tempi che saranno, devo dire, un pochino chiaramente più dilatati perché avremo anche, però poi ai fini che ho detto, dello studio della disabilità anche un questionario che dovrà essere, diciamo, somministrato al disabile e sarebbe UDAS che sarebbe chiaramente una serie di items che vengono posti, quindi una serie di indagini che si fa chiaramente per quanto riguarda, appunto come ho detto prima, la condizione sociale, anche l'integrazione sociale. Grazie, ho finito. Grazie. Per il Consiglio nazionale dei giovani, Francesco Marchionni. Deve spegnere, è lì. Grazie. Perfetto, grazie e buongiorno, gentile Presidente, onorivoli senatori e senatrici presenti. Innanzitutto ringrazio a nome del Consiglio nazionale dei giovani per l'opportunità in quanto organismo di rappresentanza delle politiche giovanili e di consultazione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri su queste materie, in quanto consideriamo di vivo interesse questo tema soprattutto per il mondo giovanile, pur, e spero di non accreditarmi antipatie, non riscontrando nel testo la parola giovani, e sono tante pagine, e considerando il fatto che i giovani, soprattutto nel contesto della disabilità, costituiscono forse in alcune disabilità la maggioranza del percorso di vita di un ragazzo o di una ragazza con disabilità. Quindi consideriamo importante porre l'accento su questo tema, soprattutto perché, come già citato da alcuni colleghi precedentemente, il testo è veramente sfidante e pone all'attenzione un approccio che, potremmo dire, finalmente passa da una visione medico-centrica ad una prospettiva multidimensionale che considera l'individuo e la sua interazione con l'ambiente e con il benessere all'interno della società. Quindi sicuramente, vista l'importanza di questo strumento legislativo, che poi rivendichiamo soprattutto nella parte legata al progetto di vita individuale, che vediamo essere, come dire, la naturale disposizione di un progetto empirico che nel tempo è stato, come dire, portato nell'ottica del terzo settore come una progettualità che oggi vede, come dire, una reale concretizzazione in termini legislativi, essere veramente una, come dire, una possibilità che consenta ai giovani con disabilità di partecipare attivamente alla vita sociale, educativa e lavorativa del Paese. Sicuramente l'attenzione rivolta a questa valutazione multidimensionale della disabilità, a partire dalla quale poi individuare supporti adeguati per lo sviluppo unitario del percorso di vita del singolo cittadino, permette sicuramente un decisivo passo in avanti nella comprensione del fenomeno nella sua interezza. E riteniamo sicuramente necessario garantire, nel rispetto del principio di ugualianza formale e sostanziale, il pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti della vita quotidiana, soprattutto attraverso l'accertamento della condazione di disabilità e la previsione dei sostegni utili a vivere tali contesti senza ostacoli. Ma tali sostegni non possono essere efficaci se, in primo luogo, appunto, non intendiamo questa sfaccettata multidimensionalità della disabilità articolata intorno a numerose sfide. In primo luogo pensiamo di carattere sociale. Sicuramente è necessario sviluppare politiche pubbliche e misure efficaci che tengono conto della complessità della disabilità. Oggi, parlando in questo testo oggettivamente di accesso in maniera molto sfidante della disabilità non più come inabilità al lavoro, ma come proprio concetto di vita, cioè condizione di vita che una persona si trova a vivere e soprattutto poi il progetto di vita individuale come una sfida per l'individuo anche di coprogettare insieme alla società il proprio futuro, deve trovare anche una terza gamba, potremmo definirla, che è quella dell'accessibilità e invito insomma tutti quanti anche a vedere questa sala. Oggi una persona non vedente, una persona sorda avrebbe difficoltà ad accedere a, in questo momento specifico, se non predisponiamo prima la sala ad accoglierlo. Non siamo pronti a livello proprio nazionale ad accogliere la disabilità in tutti gli aspetti della nostra vita sociale. E questo, diciamo, deve essere una sfida che all'interno del testo trova uno spazio, in quanto comunque parliamo di una legge quadro sulla disabilità che deve tenere conto anche del tema sicuramente dell'accessibilità. E di questo però troviamo anche un ottimo, come dire, spunto nella promozione all'accesso alle tecnologie assistive, in quanto questo sicuramente può enfatizzare la crescente importanza dell'accesso e dell'uso delle tecnologie come strumenti per migliorare la qualità della vita dei giovani con disabilità. E quindi invitiamo sicuramente a sostenere la ricerca e lo sviluppo in questo campo attraverso anche strategie mirate al fine di facilitare innovazione di inclusione. Ma così come è anche importante il coinvolgimento diretto, attivo e nell'empowerment individuale della persona con disabilità. Sicuramente le misure previste vanno in questa direzione, in questo senso va comunque assicurato in linea poi con la crescente richiesta di partecipazione attiva e di empowerment individuale, quello che è la partecipazione alle questioni sociali. Cioè cercare di far sì che, insomma, la persona con disabilità sia anche coattore delle scelte che lo riguardano in maniera istituzionalizzata. E poniamo quindi l'attenzione anche a sfide affrontate oggi da giovani, per esempio studenti con disabilità, nel nostro sistema educativo. Questa legge potrebbe anche creare un ponte tra quella che è poi una riforma del sistema istituzionale legato all'educazione, tenuto in considerazione che oggi noi abbiamo un modello che sicuramente si differenzia in Europa per quello che riteniamo essere un modello abbastanza inclusivo. Ma, insomma, io riporto sempre una mia esperienza personale vissuta al liceo. Io non ho mai avuto possibilità di conoscere a pieno una mia compagna di classe con disabilità, perché era sempre poi trasferita in un'altra aula con la propria professoressa di assistenza sociale a lavorare. Questo non permette inclusione, lì dove ovviamente parliamo di empowerment dell'individuo. Pertanto, ecco, riflettiamo su questi temi per far sì che questo testo, oltre alle sfide che già pone, ponga veramente un ponte tra questi temi. E quindi come consiglio, non solo che crediamo, insomma, anche in un altro tema che viene citato nel testo, che è quello del peer cancelling, perché la persona con disabilità può sicuramente essere a sua volta soggetto, come dire, di aiuto per la persona con disabilità che ha a fianco e quindi dalle sue esperienze trarre anche possibilità di coinvolgimento. Ma sicuramente il tema che poniamo si racchiude in alcuni punti che chiudo. Innanzitutto la partecipazione attiva, quindi garantire questa partecipazione attiva dei giovani con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, istituire magari anche un indice di monitoraggio che possa aiutare anche a misurare l'efficacia delle normative sulla vita dei giovani con disabilità, assicurando che le misure attuate poi migliorino concretamente lo stile di vita e soprattutto lavorare su una didattica inclusiva che possa collaborare e trovare collaborazione con le istituzioni educative per sviluppare un miglioramento continuo della didattica inclusiva che poi nel piano di vita progettuale individuale si va a configurare anche nel patto educativo speciale che ogni ragazzo e ragazza con disabilità ha per creare proprio una coprogettazione sociale unica e di impatto. Grazie. Marco Zanisi, noi siamo l'Alleanza delle Cooperative Italiane, ci siamo divisi l'intervento in due. L'Associazione Generale Cooperative Italiane, Conf Cooperative Federale Solidarietà e Lega delle Cooperative Sociali, cooperative riconosciute, promosse e tutelate dall'articolo 45 della Costituzione, rappresentiamo circa 10.000 cooperative sociali con 375.000 occupati e alcune centinaia di migliaia di persone con disabilità e di famiglie di cui ci occupiamo quotidianamente nella gestione di servizi di urni, strutture semiresidenziali, residenziali per persone con disabilità complessa e per persone non autosufficienti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica. Grazie per la possibilità di intervenire e grazie anche per la ricchezza dei contenuti finora espressi. Noi ci occupiamo inoltre di molti progetti dedicati al dopo di noi, progetti per la qualità della vita adulta e indipendente delle persone con disabilità, percorsi di inserimento lavorativo dove nelle cooperative ancora oggi si trova molto più risposta che nel resto del sistema economico italiano. Lo schema del decreto è un oggetto atteso da anni, rappresenta secondo me un buon risultato e anche un compimento, un'approssimazione a quanto descritto dall'articolo 14 della 328 del 2000. Riguarda il recepimento delle indicazioni della Convenzione ONU per i diritti di persone con disabilità e allo stesso tempo presenta alcune criticità che ci portano a presentare precise osservazioni che il collega Bollani presenterà successivamente. Con un duplice obiettivo questo, portare un contributo a questa riforma da parte delle cooperative sociali, non solo impegnate ad erocare prestazioni nel sistema dei servizi e progetti, ma garantendo coesione e inclusione e innovazione sociale nell'ambito delle politiche dei servizi per la persona con disabilità in tutti i contesti territoriali, da piccolo quartiere alla Regione. Garantire e sostenere un'adeguata transizione a tutto il sistema dei servizi territoriali esistenti, senza perdere di vista la centralità della persona con disabilità e dei sostegni necessari ai suoi contesti di vita per garantire le benessere, inclusione e senso di appartenenza alla propria comunità. Per questo tre brevi osservazioni. Uno sul ruolo delle cooperative sociali, il ruolo che il legislatore delegato ha individuato per le cooperative in qualità di enti del terzo settore all'interno dello schema del decreto, non appare all'interno del primo e del quarto capo, ma esclusivamente in misura non preponderante nel secondo capo dedicato alle procedure di valutazione e dall'accondamento ragionevole. Per questo motivo ci interessa garantire il riconoscimento del ruolo delle cooperative, soprattutto in quel passaggio del capo primo e quarto, valutazione multidimensionale, dove una rappresentanza attiva delle cooperative a monte e a valle garantirebbe un continuum ed il consolidamento di molti progetti e servizi anche innovativi già avviati assieme alle persone con disabilità e alle loro famiglie in tutto il territorio nazionale. Valorizzando il capitale di conoscenza e competenza e di esperienza nella loro veste gli enti gestori di servizi che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 131, costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale. Io sono quindi in grado di mettere a disposizione del lente pubblico sia preziosi dati informativi, altrimenti conseguibili in tempi più lunghi, i concorsi organizzativi di proprio carico, sia un'importante capacità organizzativa ed intervento. A seguire sulla garanzia di una corretta integrazione sociosanitaria perché, ricordiamo, le persone con disabilità non sono persone malate. Senza adeguati accorgimenti la suddivisione dei due percorsi valutativi di base e multidimensionale rischia di ostacolare il processo di integrazione sociosanitaria, spingendo verso processi sanitarizzanti, valutazione di base, anche a causa della scelta di coinvolgere nelle commissioni valutative personale con formazione prevalentemente sanitaria. Da ciò la necessità di migliorare, con alcuni accorgimenti, l'integrazione tra due percorsi valutativi di base e multidimensionale per prevenire il rischio di approcci ancora troppo centrati su una visione esclusivamente medico-sanitaria a discapito della necessaria focalizzazione sulla qualità della vita delle persone con disabilità. E' a chiudere la necessità di garantire la compatibilità con i sistemi di accreditamento e l'amorizzazione con servizi e sostegni esistenti. Le procedure indicate nell'articolo 26 e 27, a causa di spazi interpretativi e adattativi che lasciano rispetto al successivo recepimento regionale, rischiano di creare risposte diverse, in particolare nel successivo adeguamento dei sistemi di accreditamento dei servizi, LEA, e al contempo non garantiscono ne definiscono il LEPS. A tal fine, pertanto, suggeriamo che con decreto interministeriale ad adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano definiti i LEPS di processo e di erogazione relative a sostegno del progetto di vita, a budget di progetto, nonché le prestazioni compatibili con il LEA e la sua eventuale revisione. Sì, se c'è ancora il tempo. Grazie Presidente, grazie a tutti i senatori. Ad integrazione dell'analisi del collega Zanisi anticipo alcune proposte di emendamento che saranno oggetto di una nota specifica inviata nei prossimi giorni con l'obiettivo di superare alcune criticità che riguardano due macro-questioni presenti nel decreto. La prima, l'integrazione tra i due processi, valutazione di base e valutazione multidimensionale. Alcuni accorgimenti, dal nostro punto di vista, dovranno essere portati per integrare meglio questi due processi. E la seconda questione riguarda invece un problema di procedibilità, sia di tipo giuridico che organizzativo, a livello territoriale. In modo particolare, riguardo alla prima criticità nell'integrazione tra i due processi di base, gli emendamenti riguarderanno articolo 6, articolo 9 e articolo 10. E in particolare, riguardo all'articolo 6, si evidenzierà che la necessità e l'intensità dei sostegni individuate dall'unità di valutazione di base possano anche essere variate e modificate in sede di valutazione multidimensionale e di definizione del progetto di vita. In relazione all'articolo 9, che riguarda la composizione e il funzionamento della commissione della valutazione di base, appare fondamentale garantire la possibilità di inclusione delle figure professionali dell'area pedagogica e sociale anche nella valutazione di base, per integrare l'approccio sociale e sanitario e prevenire il rischio di un approccio esclusivamente medico-sanitario. E in particolare, prevedere che nella composizione delle commissioni che svolgono la valutazione di base, siano previste anche figure dell'area pedagogica. Prevedere inoltre che vi sia un investimento formativo all'interno delle commissioni di valutazione di base, proprio sui temi dell'utilizzo dell'ICF e anche dei domini di qualità della vita. prevedere infine la possibilità di integrare tali commissioni con figure professionali dell'area sociale e non solo sanitaria e garantire inoltre che chi assiste alla persona con disabilità possa essere un professionista non solo medico-psicologo, ma anche un operatore sociale con competenze in materia di approccio biopsicosociale, che riteniamo il cardine e il fulcro del nuovo approccio stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In estrema sintesi, nell'ambito del procedimento e del riconoscimento della condizione di disabilità, si tenga conto ovviamente di ICD e di CF, si valutino però non solo le capacità ma anche le performance e nel valutare il funzionamento personale si tenga conto anche dei domini dell'apprendimento e dell'applicazione delle conoscenze. Riguardo invece al secondo elemento di criticità, le proposte di emendamento riguarderanno l'articolo 17 dell'accomodamento ragionevole, l'articolo 24 della composizione dell'UVM, l'articolo 28 relativo al budget di progetto e l'articolo 32 relativo alle azioni di formazione. Per quanto riguarda l'accomodamento ragionevole, occorre prevedere che in materia di accomodamento ragionevole ai fini dell'accoglimento dell'istanza si possa coinvolgere anche l'ente pubblico finanziatore del servizio, laddove si renda necessario rivedere gli oneri che da esso discendono, prevedendo anche che tale oneri non siano sproporzionati. Per quanto riguarda l'UVM, occorre riconoscere il ruolo e le competenze e le conoscenze anche degli enti gestori dei servizi, occorre prevedere la presenza degli operatori degli enti di terzo settore delle cooperative sociali nell'ambito dello svolgimento dell'UVM a Monte e a Valle, laddove le persone interessate siano già seguite o assistite nell'ambito di servizi o interventi da essi gestiti. Infine, per quanto riguarda il budget di progetto, la definizione del budget di progetto sia effettuata anche ma non esclusivamente attraverso i principi della coprogrammazione e coinvolgendo non solo i servizi sociali ma anche sociosanitari, facendo salvi gli interventi già in essere ed avvalendosi tra le altre delle risorse economiche sia sociali che sociosanitarie secondo il principio dell'interoperabilità. E in ultimo, nell'ambito dell'attività formativa si prevede il coinvolgimento delle cooperative sociali degli enti di terzo settore non solo tra i fruitori ma anche nella fase di programmazione e coprogettazione degli interventi come sancito è previsto anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 131 del 2021. Grazie. Grazie, Comellini. Mi raccomando i tempi. Assolutamente, Presidente. Allora innanzitutto i ringraziamenti di rito che l'osservatorio vuole. Ok, e li saltiamo. Io salterei anche le premesse perché tanto abbiamo depositato una memoria. Andiamo alla memoria. Allora io vorrei chiedere alla Commissione, vista la complessità e le complessità che sono emerse. Chiedo scusa. Anche perché qual è lo spirito dell'audizione? Di mettere a disposizione dei colleghi senatori attraverso appunto un contatto diretto nel caso di presenza dei senatori, ma i senatori abbiamo voluto che fossero solo 200 quindi saltano da una parte all'altra come le marionette. Però la memoria scritta noi la pubblichiamo e resta a disposizione dei senatori che producono un'attività emendativa. Quindi è molto importante la memoria scritta. Grazie. Allora, la complessità delle evidenze che sono emerse sin qui sia nelle audizioni di ieri che oggi suggerirebbe l'adozione di uno slittamento dell'esercizio della delega che peraltro è previsto anche perché non credo che entro il 15 di marzo questo decreto possa uscire in maniera adeguata a garantire l'effettività dei diritti che sottende. Per carità è chiaro che anche il decreto 222 del 2023, quello sulla piena accessibilità fisica e digitale, ha delle finalità incomiabili. Però poi nei fatti è entrato in vigore il 10 gennaio ma è inattuabile perché a risorse zero non si può fare nulla. Tra l'altro il nostro è un patrimonio, se vogliamo parlare delle scuole o dei musei, dei beni culturali che sostanzialmente è inaccessibile. Salto e vado avanti. Io vorrei fare un richiamo importante al fatto che, come ha scritto il Sole 24 ore il 3 dicembre scorso, le persone con disabilità in Italia sono 7.658.000. Ora è chiaro che è un numero molto ampio, poi bisogna scendere, il dottor Lauria si ricorda che negli anni passati ci confrontavamo anche sui numeri, bisogna scendere sull'effettività dei bisogni di queste persone e quindi ricondurre ai numeri reali per dare provvidenze e sostegni concreti. Tuttavia nel richiamare la puntuale memoria del Consiglio di Stato, che lo sperdi fa propria perché fa delle osservazioni mirate, non si può sottacere il fatto che il garante per la tutela dei dati personali non sia stato nemmeno interpellato e questo è un problema visto che questo decreto sostanzialmente affronta tutto il panorama di norme basandosi proprio sui dati personali, sull'interoperabilità delle banche dati e questo è un punto critico che il Consiglio di Stato pone addirittura come primo punto della propria memoria. Sorvolo sul fatto che il Consiglio di Stato segnala come non emerga dalla documentazione a corredo del decreto il vero e proprio concerto tra i ministeri che nell'analisi dell'articolato poi emerge in alcuni punti in maniera più critica. Il Consiglio di Stato e noi condividiamo fa anche un riferimento sull'adozione dei decreti successivi che rappresentano un ulteriore slittamento delle tempistiche. Sostanzialmente questa delega che io ricordo negli anni scorsi doveva nascere come un progetto di codificazione del sistema è diventata una delega legislativa tra l'altro vincolante per il PNRR perché sono, ricordiamo, la delega sulla disabilità e la non autosufficienza sono le prime due riforme vincolanti quindi l'Europa ci guarda e ci guarderà ancora più da vicino nei prossimi mesi per cui questa delega va esercitata in maniera coerente con la produzione di testi normativi che producano un effettivo miglioramento delle condizioni di vita delle persone a cui si rivolgono. Premetto che noi consideriamo gli obiettivi dei decreti legislativi diciamo sostanzialmente ottimi ma è la tecnica con cui vengono proposti che ci lascia perplessi. Ci sono diverse criticità, adesso non ve le voglio elencare tutte ma mi vorrei richiamare, per esempio avete citato l'articolo 32, c'è un punto anche nel precedente articolo sempre in materia di educazione continua in medicina dove per esempio andrebbe consultato il Ministero dell'Università e della Ricerca che non mi sembra sia richiamato nell'articolato. Veniamo all'articolo 24 in merito alle figure che possono partecipare all'unità di valutazione multimediale e così fa un espresso richiamo al caregiver dimenticando l'aggettivo qualificativo familiare che denota l'ambito in cui questo opera. Questo è un brutto vizio che purtroppo crea una confusione di figure nell'ambito della famiglia perché il badante non è il caregiver familiare. Tra queste figure occorre, giustamente si fa richiamo alla legge 76 del 2016, però c'è un problema che si elenca una serie di figure e quindi si cita l'affinità. Ora ricordiamo che la legge 76 del 2016 non richiama l'articolo 78 del Codice Civile e quindi esclude l'affinità tra le possibili figure che possono intervenire in questo caso tra le parti dell'Unione Civile quando una viene a mancare il congiunto dell'altra non potrebbe mai subentrare nell'assistenza del congiunto che è rimasto privo del rapporto con l'Unione Civile, con la parte e quindi si crea un problema. L'Inps in questo ha prodotto proprio sulla scorta di una sentenza della Corte Costituzionale, la 213 del 2016, una circolare anzi per l'esattezza sono due, ma la più importante è la circolare 36 del 7 marzo 2022. Non vi tedio oltre, ma questa circolare dice che va riconosciuto, sussistere il rapporto di affinità tra l'unito civilmente e i parenti dell'altra parte dell'Unione Civile e lo fa per agevolare la fruizione di quelli che sono i famosi permessi della 104. Ecco, anche in questo caso si potrebbe creare il rischio per cui nella famosa unità di valutazione multidimensionale ci si trovi nella condizione di avere di fatto una fine, ma che non possa per effettività della carenza dell'articolo, diciamo, del requisito di affinità sancito dal Codice Civile partecipare. Vado velocissimo perché ho promesso al Presidente di essere ancora più rapido, ho finito, volevo intervenire sull'articolo 28 che, sono brevissimo Presidente, ha un problema, quell'articolo 28 richiama il fondo di funzionamento delle università. Ora è strano che venga richiamato in quanto poi il comma 8 dice che la persona con disabilità può autogestirlo e lo deve rendicontare, è strano che si richiami un fondo che sostanzialmente non è disponibile alla persona in quanto la gestione del fondo, che probabilmente non viene compreso, non si è capito come funziona per chi ha scritto il decreto, è composta da tante parti, tra cui anche una parte dedicata alle misure di inclusione sociale per gli studenti con disabilità. Ora, è difficile poter dire che questi soldi l'università li ripartisce tra gli studenti. Li utilizza a titolo esemplificativo per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle proprie strutture, per rendere la didattica inclusiva, per fornire gli ausili e quant'altro. Ma certamente non può essere compresa questo fondo nell'ambito del budget di progetto. Pertanto se ne chiede la totale eliminazione o almeno si interpelli il ministero competente affinché dia un proprio parere. Presidente, io spero che veramente questo decreto possa essere migliorato perché così com'è non può avere per adesso un giudizio positivo. Se ovviamente il parere che le Camere daranno conterrà delle condizioni e degli aggiornamenti da richiedere al Governo, sicuramente il nostro orientamento cambia, fermo restando che le finalità che si prefigge la norma di delega e i decreti legislativi sono assolutamente condivisibili. Grazie. Sì, grazie. Grazie. Ha visto che è stato velocissimo. Tenteremo di fare, come negli auspici, un lavoro importante. Beretta, Giovanna Beretta. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Passo la parola al mio vice, professor Bernetti. Bernetti, prego. Eccoci qua, buongiorno signor Presidente, signore senatrici e senatori. La Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa rappresenta, come società scientifica, l'unica società di riferimento dei medici fisiatri italiani. Vi ringrazio per l'opportunità di essere qui in questa audizione. Il decreto, a nostro parere, rappresenta comunque un grosso passo in avanti nel garantire alla persona con disabilità un reale empowerment, permettendogli le condizioni di massimo livello possibile di funzionamento e partecipazione in relazione alla propria volontà e al contesto, così come già ben definito nel piano di indirizzo della riabilitazione. La disabilità non è più concepita come una deduzione delle capacità funzionali determinata da una menomazione, ma come la risultante da un'interazione tra le condizioni di salute e i fattori contestuali. Ma questo l'ICF l'ha definito ormai ben 23 anni fa, quindi sono dei concetti ben noti chi si occupa di riabilitazione, non solo ovviamente i medici, ma tutti i componenti dell'essenziale è necessario team riabilitativo. In Italia appunto i numeri relativi alla disabilità sono importanti, soprattutto sono importanti nelle persone over 65, siamo un paese dove si vive molto a lungo, ma negli ultimi anni di vita si vive anche discretamente peggio rispetto ad altri paesi in Europa. In relazione a questa evoluzione è solamente un senso peggiorativo, il 29% delle persone con disabilità vive da sola e probabilmente nei prossimi 10-15 anni questa percentuale è sicuramente destinata a salire. Il medico fisiatra, in quanto specialista in medicina fisica e riabilitativa, ha una formazione specifica, peculiare, distinta rispetto a tutti gli altri medici, nella valutazione del funzionamento e della disabilità secondo appunto la definizione ICF e nel trattamento delle varie condizioni di disabilità come risultato dell'interazione tra la condizione di salute e i fattori contestuali, che è la sola modalità che permette effettivamente di definire lo sviluppo di un percorso di vita costruito sulla persona e con la persona con disabilità e anche con le rispettive famiglie e caregiver. Quindi la Simfer sottolinea come il medico fisiatra sia riconosciuto come lo specialista medico di riferimento per la condizione di disabilità, questo già inserito nelle diverse normative e di conseguenza è l'unico medico che ha le competenze necessarie per la valutazione multidimensionale nella definizione del progetto di vita e nella presa in carico globale della persona con disabilità. In questo modo è possibile garantire la proprietezza delle cure riabilitative che può determinare anche una significativa riduzione dei costi sanitari e sociali. Infatti recenti studi hanno dimostrato come a fronte di un investimento di un euro in riabilitazione questo possa generare un risparmio fino al doppio sui costi sanitari e sociali, quindi in termini di costi sia di tipo diretto che di tipo indiretto. Ovviamente questi risparmi sono maggiori per pazienti, per persone con disabilità gravi e per quelli che ricevono anche un intervento riabilitativo precoce e intensivo. Questi presupposti vengono anche dal recente documento prodotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che proprio un anno fa, nel febbraio del 2023, ha prodotto il documento che stimola tutti i sistemi sanitari nazionali a investire e potenziare i servizi riabilitativi per migliorare la salute e il benessere delle persone con disabilità, raccomandando di aumentare il numero di medici specialisti in riabilitazione e degli altri professionisti in ambito riabilitativo per migliorare l'accesso ai servizi riabilitativi e promuovere anche la ricerca in ambito riabilitativo. Naturalmente tutte le nostre proposte sono contenute nella memoria che abbiamo consegnato. Mi permetto semplicemente di segnalare come il decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 numero 68, riferito appunto al riordino delle scuole di specializzazione in area sanitaria, riporta come lo specialista in medicina fisica e riabilitativa deve aver maturato conoscenze scientifiche e professionali nel campo della fisiologia, fisiopatologia clinica e terapia delle menomazioni e disabilità, nonché della possibilità di partecipazione della persona disabile alla vita sociale e delle condizioni ambientali che lo condizionano secondo le indicazioni contenute nella classificazione ICF. Quindi è l'unica specializzazione medica che contiene nella declaratoria proprio questa specifica. Questo è importante da sottolineare proprio perché dal nostro punto di vista dovrebbe essere presente una figura come la nostra nei vari momenti di valutazione, eventualmente anche quello di base ma sicuramente in quello multidimensionale. Quindi questo andrebbe inserito. Non vado poi nei dettagli delle specifiche che naturalmente voi leggerete. Vi ringrazio. Presidente, grazie, illustrissimi senatori, grazie, illustrissimi colleghi, grazie. Questo è un momento importante, sono momenti in cui ci mettiamo a confronto con quelli che vivono certe tematiche insieme con coloro che sono i decisori a tutti i livelli. E proprio questi momenti possono servire, devono servire, dovranno servire alla crescita del sistema salute italiano. Abbiamo visto che è tutto radicalmente cambiato. Abbiamo visto che la necessità è inderogabile di uscire dal loop prestazionale per entrare in un sistema di presa in carico del cittadino. Cittadino che va preso in carico in tutti i suoi aspetti, se vogliamo che il nostro intervento sia veramente efficace ma anche efficiente. Per questo, illustre Presidente, illustri componenti della Commissione, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti, ente pubblico esponenziale della professione sanitaria di fisioterapista, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento, connesse all'esercizio professionale, rileva l'importanza dell'ambito oggetto di disciplina del provvedimento in titolo. Si sottolinea che la Fnofi è particolarmente sensibile. Noi siamo fisioterapisti, noi con la disabilità ci viviamo e è parte importantissima della nostra vita, molto spesso non solo professionale. E quindi la Fnofi è particolarmente sensibile alle tematiche relative alla disabilità. Una condizione che, ricordiamo, interessa il 20% della popolazione mondiale. In Italia sono milioni le persone che si confrontano con la disabilità. Basti pensare che una famiglia su dieci ha al proprio interno un componente con disabilità. E in moltissimi casi noi fisioterapisti siamo presenti insieme al paziente cittadino, persona, ma anche a tutto il suo ambito familiare e della comunità in cui egli vive. Ricordando che la condizione di disabilità è il prodotto sfavorevole fra la persona con le sue condizioni di salute e l'ambiente circostante, è responsabilità di tutti modellare un ambiente favorevole attorno alla persona, a cominciare dalle norme che possono semplificarne la certificazione e l'accesso alle cure integrate, nonché tutti quegli interventi che possano favorire l'esercizio del diritto del cittadino alla salute. La FNOFI ritiene pertanto di condividere alcune riflessioni sulla fattispecie in discussione, partendo proprio dal presupposto che la professione sanitaria di fisioterapista riconosce nella tutela della salute individuale e collettiva il proprio fondamentale e principale obiettivo. La salute, intesa nell'accezione più ampia del termine, cioè come condizione di benessere psicofisico della persona, è in relazione ai diversi domini di partecipazione. In premessa, va detto, riconosciamo ed apprezziamo l'intento del provvedimento normativo di ridurre i tempi e gli oneri per la gestione dei provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli che prevedono l'intervento di più accertamenti complessi, stante la necessità di dare attuazione alla Convenzione ONU, con specifico riferimento alla introduzione di una disciplina nazionale in materia di accomodamento ragionevole e di prevedere un sistema adeguato di graduazione dei sostegni per le persone con disabilità. L'apprezzamento, il nostro apprezzamento, va senza dubbio esteso anche all'intento di semplificare ed accorpare i citati provvedimenti, procedimenti anche grazie all'eliminazione di adempimenti, non ce lo nascondiamo, non necessari e non ci nascondiamo di duplicazioni istruttorie, riducendo a tal fine sia il numero di passaggi per il cittadino che quello delle amministrazioni coinvolte, con la previsione di ricondurre i procedimenti di accertamento ad un unico soggetto accertatore, in un'ottica di riduzione dei tempi, scusate, riduzione dei costi, riduzione degli oneri. Condivisibile senza dubbio anche l'adozione di una disciplina unitaria preordinata a definire il procedimento di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, perdonatemi, finalizzato all'elaborazione dei progetti di vita individuali che tenga conto della persona con disabilità, come dicevo prima, nelle sue realtà, nelle sue fragilità, nelle sue capacità, nelle sue interazioni con i diversi ambiti della sua vita. Con riferimento, e qui cerchiamo di essere pragmatici, con riferimento a provvedimento in titolo risultano di interesse particolare per la federazione con l'onore di presiedere le disposizioni di cui agli articoli 12, dove si parla di aggiornamento delle definizioni di criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base a seguito dell'adozione della classificazione ICD e DCF, 24, dove si parla di unità di valutazione multidimensionale e 29, dove si cita il referente per l'attuazione del progetto di vita. Bene, in merito all'articolo 12 si condivide senza dubbio l'impostazione generale dell'articolo che rimanda, come è stato detto in precedenza dai nostri colleghi, a successivo decreto ottativo l'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e DCF, identificandone analiticamente i contenuti. Si richiama che in base al comma 2 dell'articolo in esame, il decreto attuativo anzi detto, tali contenuti sono individuati tenendo conto delle differenze di sesso e di età. A riguardo si cita la strategia europea, cui lo schema di decreto legislativo è chiamato a dare seguito, nelle parti in cui promuove una prospettiva intersezionale, affrontando le barriere specifiche incontrate dalle persone con disabilità che si trovano in una situazione di intersezione con altre identità, tenendo ferma la distinzione tra identità sessuale ancorata a un dato di ordine biologico e di identità di genere, che obbedisce invece ad un orientamento di tipo culturale, sociale e o psicologico, e sollecitando ad un'adeguata valorizzazione a fini antidiscriminatori delle dimensioni culturali e di genere. In tale prospettiva, animati dal pragmatismo che da sempre ci pervade, proponiamo che l'articolo 12,2 vada modificato nel senso che si debba tener conto delle differenze di sesso, degli orientamenti di genere e delle differenze di età. In merito poi all'articolo 24 sulla unità di valutazione multidimensionale, beh, l'articolo 24 detta la disciplina dell'unità di valutazione multidimensionale, chiamata ad elaborare il progetto di vita a seguito della valutazione secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali. Al comma 2 dell'articolo sono indicati analiticamente i componenti necessari dell'unità di valutazione multidimensionale, affidando con la lettera E la facoltà di designazione anche alle aziende sanitarie o ai distretti sanitari. Al riguardo, si ritiene necessario proporre l'introduzione di un principio che possa utilmente guidare le aziende sanitarie o i distretti sanitari ai fini della prevista designazione, ricercando proprio nel criterio della coerenza con i principi della valutazione multidimensionale, come definita dal presente provvedimento, il riferimento per l'individuazione del professionista appropriato, per esempio un professionista con profilo prioritariamente assistenziale, oppure riabilitativo, oppure clinico, oppure sociale. In tale prospettiva si propone che l'articolo 24,2 si è modificato come segue e uno o più professionisti sanitari disegnati dall'azienda sanitaria o dal distretto sanitario, individuati coerentemente con la prevalenza del bisogno rilevato secondo i principi CF, col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria di cui uno assume la funzione di coordinatore dell'unità di valutazione multidimensionale. Per finire l'articolo 29 sul referente per l'attuazione del progetto di vita. Beh, l'articolo 29 abbiamo letto disciplina la figura del referente per l'attuazione del progetto di vita, rimettendo alle regioni la disciplina dei profili soggettivi per la sua individuazione e la definizione dei suoi compiti. L'articolo individua i compiti essenziali che è referente in ogni caso, comunque chiamato a svolgere. A riguardo ci preme evidenziare il ruolo che la figura di nuova individuazione dovrà assicurare necessariamente affinché si attui la più efficace presa in carico, nonché la più piena possibile realizzazione del suo progetto di vita. Non si tratta, chiaramente, di una figura con competenze amministrative o contabili, ma di una figura di coordinamento operativo degli interventi definiti in relazione alla rilevazione dei bisogni, delle risorse e delle aspettative della persona con disabilità. Considerata dunque la centralità di questa figura, nonché le peculiarità operative, si ritiene che la sua individuazione debba essere operata privilegiando la scelta di profili capaci di interpretare e interagire con il profilo di funzionamento della persona, alla luce della disabilità presente e delle risorse dell'individuo, nonché dei livelli di partecipazione da implementare. In tale prospettiva, e concludo, si propone che l'articolo 29,1 sia modificato come segue. Le regioni italiane disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti, legati alla prevalenza del progetto di vita sulla scorta dei principi che regolano la valutazione multidimensionale secondo il CF, garantendo la migliore corrispondenza tra il bisogno prevalente della persona e il profilo del referente individuato. Grazie, grazie ancora e grazie ancora a tutti. Grazie Ferrante. Maria Luisa Pasciulli, Organizzazione Sanitaria Meridionale, Assistenza inabili, Recupero Minori. Prego, qualche minuto. Buongiorno Presidente, grazie per l'invito, grazie a tutti i senatori. Buongiorno. Io rappresento l'associazione Arsota Puglia a cui partecipano 4.000 associazioni di disabili. Rappresento soprattutto i disabili gravi. Comunque passo la parola al dottor Semeraro per illustrare più tecnicamente tutto. Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno cari colleghi, buon pomeriggio onorevoli senatori. Il presente atto normativo trova condivisione da parte della nostra associazione per quanto concerne le finalità ultime della legge delega, ovvero quelle di trasferire sul nostro territorio nazionale quelle che sono le raccomandazioni della Convenzione dell'Odo sulle persone con disabilità. Quindi quelle di garantire alle persone con disabilità il riconoscimento della propria condizione, dei diritti civili e sociali, compreso il diritto alla vita indipendente e dalla piena inclusione anche lavorativa dove è possibile. L'avvio di questi nuovi percorsi normativi potrà consentire sicuramente la possibilità di mettere al centro dei servizi le persone con disabilità. Con l'introduzione di un modello sociale della disabilità dovrebbe quindi essere implicito un migliore riconoscimento dei diritti civili dei cittadini che ne sono portatori. Occupandoci noi di riabilitazione riteniamo di doverci soffermare sul valore della stessa, precisando che la riabilitazione costituisce il terzo pilastro del sistema sanitario accanto alla prevenzione dalla cura per il completamento delle attività volte a tutelare la salute dei cittadini. La riabilitazione è un processo nel corso del quale si porta una persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale, con la minor restrizione delle sue scelte operative pur nei limiti della sua menomazione. Un breve scursus sulla riabilitazione che può essere svolta nei diversi setting assistenziali, in regime ambulatoriale, domiciliare o anche residenziale. Per quanto attiene quella residenziale mi preme sottolineare alcune fasi della riabilitazione, da quella intensiva subito dopo l'evento acuto o riabilitazione intensiva post-acuzia che si caratterizza per interventi di recupero di disabilità importanti, modificabili, solitamente dovuti ad una patologia di recente insorgenza che richiedono una sorveglianza medico-infermieristica nelle 24 ore. Al grande gruppo della riabilitazione estensiva, che si divide in quella estensiva e quella di mantenimento. Quella estensiva riguarda di solito pazienti che non provengono da una patologia disabilitante di recente emergenza, ma che richiedono comunque di essere istituzionalizzati per seguire un percorso riabilitativo caratterizzato da instabilità clinica e quindi richiedono una sorveglianza articolata nelle 24 ore. Ci preme soffermarci sulla riabilitazione di mantenimento perché è in questo alveo che si ritrovano pazienti con particolari caratteristiche che andrò via via a specificare, a sottolineare, perché sono queste caratteristiche che vogliamo portare alla vostra attenzione, in quanto nell'ottica di un inserimento di una valutazione multidimensionale che preveda sì la partecipazione dei pazienti con disabilità all'elaborazione del proprio progetto di vita, ma ci troviamo di fronte a pazienti che probabilmente, a persone con disabilità di tale gravità che probabilmente non potranno fornire questo loro contributo, allora è giusto che in questo caso riteniamo che lo Stato provveda a dare ampio spazio e riconoscimento e dare voce a queste persone che purtroppo non possono partecipare, come è previsto dall'articolo 21 del decreto legge che si sta elaborando, per presentare una partecipazione attiva all'elaborazione del proprio progetto di vita. E ci fermiamo proprio a sottolineare alcuni aspetti di queste persone. Sono pazienti che presentano una compromissione fisica, mentale, sensoriale, con una prognosi riabilitativa senza possibilità di recupero, semmai con un elevato rischio di peggioramento della disabilità stessa. Presenza di comorbilità che espongono la persona ad un elevato rischio di scompenso a cascata ed ulteriore peggioramento dello stato di salute. Si tratta di persone che facilmente ricorrono all'uso di ospedalizzazioni con inappropriate e con costi eccessivi per il Servizio Sanitario Nazionale solo perché magari non correttamente gestiti nei presidi dove vengono presi in carico. Spesso si tratta, per fare esempi, di persone che in ragione della grave disabilità intellettiva non sono capaci di esprimere i propri bisogni primari, ma anche il semplice dolore o altri sintomi, presentano spesso malattie con manifestazioni atipiche delle stesse, riporto a titolo esemplificativo e non esaustivo per esempio la comparsa di uno stato soporoso in presenza di una banalissima infezione delle piorinarie o ancora l'esacerbazione di manifestazioni di auto o eteroaggressività in occasione di eventi acuti come una colica addominale o dolore di natura osteoarticolare. L'assenza della famiglia, altra caratteristica, anche per l'oggettiva incapacità a gestire direttamente problematiche come i disturbi del comportamento, le crisi epilettiche, il fabbisogno di assistenza nella respirazione, nell'alimentazione del paziente disfagico. La presenza di una gravità tale da non essere proponibili attività di inclusione e reinserimento sociale o progetti di partecipazione attiva alla vita di relazione nella società ma dove il mantenimento della dignità della persona è già un obiettivo della stessa presa in carico, dignità e stato di salute che vengono salvaguardati anche solo con una assistenza qualificata e specializzata. Pazienti questi con disabilità di particolare gravità e gravosità assistenziale che richiedono un intenso sostegno anche per il solo mantenimento delle funzioni vitali di base. Parliamo di persone per le quali il trattamento sanitario è strettamente correlato con l'aspetto assistenziale perché è volto attraverso le cure a rallentare l'evoluzione della malattia ed a contenere la sua degenerazione ed evoluzione verso le complicanze. Laddove si intende con l'attuazione della nuova legge erogare un sostegno intensivo così come viene riportato nella norma. A persone con elevato grado di disabilità riteniamo auspicabile che sia riconosciuto un ruolo a queste persone e che nell'ambito della valutazione multidimensionale vengano elaborati dei percorsi che prevedano il coinvolgimento di strutture specializzate ad alta specializzazione per la gestione di questi cittadini. Viene però da chiedersi se sono disponibili risorse a sufficienza per garantire alle persone con disabilità che le scelte effettuate in corso di valutazione multidimensionale rispettino criteri di appropriatezza e non siano piuttosto condizionate da quelle che sono le risorse disponibili in quel dato momento, in quel dato contesto. Purtroppo è quello che ci capita di constatare quotidianamente nel nostro esercizio della professione. Sempre nell'ottica della valutazione e quindi della valutazione delle risorse e dell'impatto che il nuovo decreto attuativo potrebbe avere su enti e agenzie coinvolte, una domanda sorge spontanea. Nell'individuare un'unica fase accertativa in capo all'Inps, è vero si attua una semplificazione storica che elimina la doppia fase di accertamento riconducibile alle due commissioni ASL-Inps e Inps in un secondo luogo, ma viene da chiedersi per esempio se l'Inps abbia una dotazione di forza di lavoro capace di assolvere le attribuzioni che verranno assegnate con la nuova legge. Sempre nell'ottica di garantire la migliore prestazione, il miglior setting assistenziale a tutti, su tutto il territorio nazionale, auspichiamo altresì che la legge dello Stato sia interpretata in modo univoco dalle diverse regioni. Problema questo già sotto i nostri occhi, poiché assistiamo troppo spesso ad interpretazioni diverse anche dei LEA, con persone aventi le stesse caratteristiche di complessità clinico-funzionale collocate in setting assistenziali sovrapponibili o addirittura nello stesso setting che ricevono un sostegno diverso a seconda della regione di provenienza. Intendo che alcuni addirittura prevedono la compartecipazione nello stesso setting assistenziale. E proprio anche in funzione del progetto di vita sarà opportuno garantire la portabilità del progetto, quindi del budget, poiché i cittadini con disabilità possono andare incontro a trasferimenti sul territorio nazionale. Proprio come gli altri cittadini è importante dunque che possano vedere riconosciuti i propri diritti e poter continuare a realizzare il proprio progetto di vita ovunque sul territorio nazionale. Vi ringrazio per l'attenzione.